Il capitolo 4 del rapporto annuale ISTAD 2022 è dedicato alle diverse forme della disuguaglianza. Il tema è trattato con riferimento alla vulnerabilità nel mercato del lavoro, al disagio economico, al diverso accesso all'istruzione e alla presenza di disabilità. Si sottolinea la progressiva diminuzione di forme di lavoro standard e la contestuale progressiva diffusione di modalità ibride di lavoro. Il combinarsi di contratti di lavoro di breve durata e intensità con bassi livelli retributivi orari determinano retribuzioni annuali decisamente ridotte. Nel corso degli ultimi dieci anni la povertà assoluta è progressivamente cresciuta e ha raggiunto i valori massimi nel biennio 2020-2021, nonostante la messa in campo di misure di sostegno al reddito che ne hanno limitato la diffusione. I più giovani hanno visto diminuire le proprie competenze, complici anche gli effetti della pandemia e segnali di diminuzione delle disuguaglianze si osservano solo per le competenze digitali anche nel confronto con gli altri paesi europei. L'accelerazione inflazionistica degli ultimi mesi rischia di aumentare le disuguaglianze presenti nel nostro paese, sia perché la perdita del potere d'acquisto è più marcata tra le famiglie con forti vincoli di bilancio, sia perché le tempistiche dei rinnovi contrattuali sembrano più lunghe proprio nei settori a più bassa retribuzione. Donne, minori, giovani, residenti nel mezzogiorno e stranieri si confermano i soggetti più fragili insieme ai portatori di disabilità e ai loro familiari.